gentili telespettatori buona giornata sondaggio demopolis per la trasmissione di la 7 8 e mezzo sugli sulle percentuali dei partiti alla data del 25 aprile del 2022 prima forza nazionale fratelli d'italia con il 21,5 per cento segue il partito democratico con il 21 per cento terza forza la lega di salvini al 16 per cento segue il movimento 5 stelle con il 13,2 poi forza italia con l'otto per cento segue azione insieme a più europa al 4,2 più distante italexit al 2,5 sinistra italiana al 2,3 italia viva al 2 per cento l'eu articolo 1 di cui si sta tenendo in questi giorni il congresso che ha portato alla rielezione di roberto speranze all'1,8 per cento infine i verdi all'1,5 altri partiti 1,5 indecisi 16 per cento grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata